Posso chiederle molto brevemente qual è la sua valutazione, poi parleremo all'allarme dell'FBI. Io penso che il Papa abbia parlato con riferimento a Parigi, ma non ha parlato soltanto con riferimento a Parigi. Credo che il Papa sappia perfettamente quello che succede in tutto il mondo, quello che succede soprattutto ai cristiani in tutto il mondo, perché noi ci ovviamente spaventiamo. Parleremo anche di quel sacerdote che è stato colpito in Bangladesh e lì, la cosa non chiara va l'Isis, poi metti il cappello dappertutto, dovunque gli faccia comodo, ha rivendicato il ferimento. Quindi ovviamente per noi quello che succede vicino a casa nostra ci incute paura, terrore, però dobbiamo riflettere su quello che accade in tutto il mondo, soprattutto a danno dei cristiani. E quello che ha detto il Papa quando è stato recentemente in Turchia, credo che debba essere messo anche in correlazione con questa dichiarazione. Noi non dobbiamo avere paura, ma semplicemente non dobbiamo avere paura a continuare a fare quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo avere la precisa coscienza che la civiltà, la cultura che abbiamo conquistato, nel corso della storia, deve anche essere difesa. E per difenderla non basta un atteggiamento passivo, non si tratta di fare guerre di religione o alcunché, ma di essere consapevoli di quello che noi siamo, con orgoglio, e di difendere le libertà che abbiamo anche conquistato. Io credo...